Siamo qui a Vergara, dopo la prima giornata di campionato, il primo miglior giocatore della settimana sei tu. La tua bellissima prestazione nell'ultima partita, hai contribuito tantissimo alla vittoria e ti ha giudici questo premio, il primo di tutto il campionato. Eh, prima giornata, sono stato fortunato, perlomeno. È una buona carica. Un motivo in più per fare bene, è uno stimolo in più. La vostra scuola si è presentata davvero. Per fare queste medaglie, non solo io, ma anche tutti gli altri componenti della squadra. Oggi vedremo cosa riusciamo a fare. C'è una buona squadra, con l'agversario, sì. Utriremo pure la seconda medaglia a cantare. Va bene, questo è il premio per te, un calzerotto e Bagaditas che ci accompagnerà per il resto dei nostri tornei. E questo è il tuo premio, migliore della settimana, i miei complimenti. Ci vediamo alla prossima.